Puoi attaccare la porta avversaria, però non sempre a buon fine, puoi perdere dalla palla. Nel momento in cui la perdi capisci immediatamente che gli altri possono farti male e questo non deve esistere. La stessa cosa è quando difendi, difendi, sei attento, però nel momento in cui la riconquisti, devi sapere dove andare e questa è una qualità che se l'allenatore ha la fortuna.